Subito vaccini a liberi professionisti, medici e odontoiatri che sono sul fronte a stretto contatto con centinaia di pazienti, spesso per sopperire alle carenze del servizio sanitario regionale. L'ordine dei medici di Campobasso scrive al presidente della regione Donato Toma, al commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini, all'azienda sanitaria regionale e alla direzione regionale della salute. Nella missiva si chiedono informazioni relative al calendario vaccinale per quei professionisti che hanno chiesto di essere sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. L'elenco è già stato trasmesso agli organi competenti. Crediamo, si legge nella nota, che la classe medica e odontoiatrica, che ha pagato un prezzo altissimo a questa pandemia, meriti e necessiti un adeguato riconoscimento e una sollecita e definitiva risposta a questa richiesta. Gli odontoiatri e i medici chirurghi liberi professionisti, per intenderci gli oculisti, i dermatologi, i ginecologi, pur essendo degli operatori sanitari, pur esercitando un ruolo di pubblica utilità, non sono stati ancora sottoposti a vaccinazione. La regione molise, che gestisce le vaccinazioni, ha inteso vaccinare esclusivamente gli operatori sanitari che siano dipendenti o che abbiano un rapporto di convenzione con il sistema sanitario nazionale. Gli odontoiatri, in specie, è noto a tutti, lavorano faccia a faccia con i propri pazienti e sono soggetti ad un rischio infettivo notevole. Pur loro applicando dei protocolli strettissimi di sanificazione dei propri ambienti, ovviamente richiedono di essere sottoposti a vaccinazione. Ma c'è di più, l'ordine ha inviato anche un altro elenco con l'indicazione dei nominativi dei colleghi che si sono resi disponibili volontariamente e gratuitamente ad aderire alla campagna vaccinale come medici iniettori.